Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un gioco che era già da un po' di tempo, detto proprio onestamente che aveva d'occhiato, e gioco che come avrete visto, Terraforming Mars, è già uscito da diversi anni. Il gioco della Freaks Games è portato in Italia dalla Genos Games, che io colgo l'occasione per ringraziare di cuore. E ragazzi, grazie veramente immensamente per avermene fornito una copia per la recensione, e spero che questo possa essere l'inizio di una buona cooperazione per il mio canale e i vostri servizi. Quindi grazie di cuore alla Genos. Terraforming Mars, come qui c'è scritto giustamente sulla scatola, è un gioco da 1 a 5 giocatori, per un'età da 12 in su, secondo me azzeccatissima ora anche perché ve lo vado a descrivere, e una durata media dai 90 ai 120 minuti. Forse la durata andrebbe leggermente alzata, perché si può arrivare anche a giocare un paio di ore, poi dipende, perché dentro è già compresa una piccola espansione, che non vi farò vedere nel video perché tanto nel gioco di base non ci vanno nemmeno messe queste carte, comunque è già compresa una piccola espansione e più regole aggiuntive, e che ampliano il gioco, quindi secondo me si va anche oltre le due orette come tempistica. Comunque Terraforming Mars è un bel gioco 1 perché sono quei giochi a base scientifica che mi cabbano da morire perché non solo riguardano il pianeta rosso, che per me è il pianeta più, vabbè per me, per tutti, più più fascinoso, tra virgolette perché è il pianeta che più si avvicina a una possibile terraformazione, o seconda casa per l'essere umano. Però sono anche belli perché è sì un gioco che mette, ce lo mette dello sci-fi perché non si può terraformare Marte, o comunque non in questo gioco in generazioni, perché i turni in questo gioco sono scanditi in generazioni. Ogni volta che passano tu una nuova generazione, ma anche fossero 5 generazioni, non basterebbe a terraformare Marte, che è completamente... non è morto, perché Marte è un pianeta vivo, però Od è un pianeta tipo solo distrutto, da comunque cataclismi molto grandi, asteroidi colpito, non ha un campo magnetico e cose del genere, e non ha assolutamente atmosfera. Quindi c'è prima di terraformare Marte, un Tidio è più facile terraformare Venere, ma siamo lì, è veramente un'impresa dalla Madonna. Però mi cabbano questi giochi, come ho detto, perché intanto un gioco non è un gioco cooperativo, è un gioco competitivo. Sì, si può andare a sabotare un po' l'azione dell'avversario, ma più che altro si deve fare più punti, vittoria e terraformazione degli altri giocatori, perché in questo gioco, come nella serie di Marte che avete visto, siamo delle corporazioni, delle corporazioni mandate dalla Terra. E ogni corporazione, perché tanto sarà così su Marte, prima arriverà una navetta con un unico equipaggio, e poi quando vedranno che si possano tirare fuori dei soldoni, arriveranno anche i privati. E il problema dei privati è che poi, pagando, ovviamente soldi, potranno fare quello che vogliono del pianeta. Però il succo è terraformare Marte, e vince la corporazione che farà più megacrediti, che è la valuta dei giochi sordi, e più punti terraformazione. È un gioco discretamente veloce, e secondo me è veramente molto interessante, perché ha degli spunti, delle sfumature tattiche, secondo me anche uniche. Comunque ve lo faccio vedere. Unboxing, confezione del gioco, insomma, abbastanza grande, vi faccio sempre vedere rispetto alla mano, e la mia mano non è grande, quindi. E bellino anche il disegno che c'è, che fa vedere questi due astronauti con le prime piante, e anche un po' d'atmosfera, perché vediamo un lago o qualcosa del genere, in lontananza. Il gioco è inventato nella regione di Tarsis, e nella valle Marineris. Ovviamente per ragioni anche di spazio, perché se no sarebbe servita non una mappa, ma tutto quanto il pianeta è un tavolo disumano, non ci hanno messo l'Olympus Mons, e la regione dell'Olympus Mons. Comunque diciamo che la regione di Tarsis, che è quella più famosa e più importante di Marte, è nella mappa del gioco. Apriamo! Regolamento di gioco piccolino, pieno di disegni, esempi, belle pagine colorate, tra l'altro tradotto veramente molto bene, quindi un complimento alla Genos, ma soprattutto piccolino, perché ci sono pochissime regole in questo gioco. Sembra, a volte, questo gioco sembra un pochino una corsa al punteggio, una specie di monopoli o cose del genere, ed è fatto veramente bene, perché è veloce, ve l'ho detto immediato, e le poche regole che ha all'interno, più ovviamente qualcosa anche di opzionale, grazie all'espansione contenuta dentro la scatola di base, è un gioco molto veloce, quindi si ricorda facilmente. Mazzi di carte, che sono a carte evento, perché le carte sono di tre tipi in questo gioco qui, carte evento, e poi ovviamente all'interno ci sono anche le carte risorsa, e le carte costruzione, quindi quelle più importanti, sono le carte che vi daranno risorse da spendere, sia per la terraformazione, che come vi dicevo all'inizio, per i megacrediti per vincere la partita. Questi sono i mazzi da cui dovranno pescare i giocatori. Un casino di cubettini colorati, che sono di un certo colore, per ovviamente identificare i player, quindi ogni player avrà i suoi mattoncini con il proprio colore, che dovrà distribuire sulla mappa, sulle carte, insomma, per far vedere che quel possedimento, quella città, quel mare, o cose del genere, è di sua proprietà, soprattutto al fine del punteggio. E poi gli altri cubettini, che sono risorse, accumulate sulle schede delle corporazioni, e in più megacrediti, che si dividono in tre cifre, tipo quelli color rame, ad esempio, sono quelli che valgono meno, valgono uno, per poi passare silver, che valgono cinque, e quelli dorati, che invece valgono dieci. Tessere delle corporazioni, ce ne sono un bel po' all'interno del gioco. Mappa, come vi ho detto, principalmente della regione di Tarsis, comunque, vedete, un lato, una faccia del pianeta, di Marte. esagoni terreno, erba, più che altro, per costruire foreste, vegetazione e dare ossigeno, esagoni speciali, tipo per città speciale ed altre cose, esagoni oceano, che sono in tutto nove, come vedete qua giù, gettone primo giocatore, città speciale, che questa è una città particolare, che va messa soltanto in una città precisa sulla mappa, e poi tutte le altre città che potrete costruire. Componenti principali del gioco sono il mazzo disumano che vedete qui, che sono come vedete tutte le carte progette, quelle che vi servono per vincere e accumulare punti, vi ricordo di togliere da quel mazzo lì, tutte le carte che hanno in bassa a sinistra, questo simbolino rosso, le potete usare ragazzi, ma non nelle prime partite, perché sono le carte dell'espansione che è dentro la scatola, quindi quelle con questo simbolino rosso qua giù in fondo, all'inizio toglietele. Comunque, schede delle corporazioni, che ogni corporazione ha, vabbè, giustamente un nome, un'azione che può fare la corporazione, una descrizione in fondo, e soprattutto le schede delle corporazioni vi dicono con quanti crediti partite inizialmente, megacrediti, che sono sempre questi qua giù gialli segnati di qua, e ovviamente alcune corporazioni, come qui la seguente, che vedete la Ecoline, non solo vi daranno crediti di partenza, e ovviamente avranno un'altra azione rispetto a quest'altra, però vi daranno anche risorse di partenza. Se partirete con questa corporazione qua su, avrete tanti crediti, perché è una delle più ricche, ma nessuna risorsa. Queste invece avrete 36 megacrediti, ma anche tre tessere verdi, come vedete qua giù in fondo, e queste sono le corporazioni. Qua sotto ci sono le corporazioni per i principianti, che vi consiglio di usarle ragazzi per la prima partita, perché ci hanno poche regole, e sono anche più facili da tenere a mente. Potete partire anche con queste tranquillamente, ma quelle sono più veloci. Queste qui sono carte repilogative, che vi fanno vedere come funziona il turno di generazione, come va avanti il turno, quindi queste datele a tutti i giocatori. Mazzo principale, dove ci sono all'interno tutte le carte, che potranno essere acquistate e giocate, dai giocatori per appunto per terraformare Marte. Finiscono la selezione dei giocatori, trovare dei cubetti, intanto sono cinque, del colore che preferite, in questo caso all'oscetti gialli, ma ci sono anche rossi, blu e neri, e poi mettere sempre tutti quanti sciolti, in un mucchio, insomma, accanto a portata di mano di tutti i giocatori, che ricordo sono da 1 a 5, in questo gioco qui mettere quelli di rame, che vi ricordo valgono un mega credito e una risorsa, quelli di silver, argento, che ne valgono 5, e quelli dorati, che sono i cubetti più grandi, che ne valgono 10. Quindi questi qua teneteli sempre a portata di tutti i giocatori. Questa è la tabella, la plancia di tutte quante le corporazioni, quindi al solito datene una per ogni giocatore, e vedete è divisa in sei sezioni. La prima sono i mega crediti. Quassù in cima, nelle sezioni alte, quindi questa e queste qui in basso, sul disegnino per farvela più semplice, dovrete sempre mettere un valore pari alla vostra produzione. Quindi nel caso la vostra produzione, in quella generazione, sia di 10, voi metterete 10 cubetti quassù, a fine generazione, perché avrà prodotto 10 risorse, e tutte quante, lì lascerete sempre il cursore sul 10, e le sposterete su. Ricapitolando sono, mega crediti, costruzioni, titanio, piante, foreste, boschi, energia, e calore. Con le regole che, vedete, ci sono scritte, voi per acquistare delle carte, dovrete sempre pagarne il costo. Il costo delle carte, lo dovete pagare, ovviamente, in mega crediti, però nel caso, una delle carte che vogliate giocare, abbia il simbolo delle costruzioni, potrete usare, una combinazione di mega crediti, più queste risorse, qua giù, costruzione, per pagare la carta, oppure potete tranquillamente dire, no, non voglio spendere mega crediti, perché mi servono dopo per altre cose, e uso direttamente le risorse. Vedete, se usate queste risorse, per carte costruzione, ciascuna di queste risorse vale due, mega crediti, quindi è più facile costruire con queste, per ogni invece risorsa, costruzione spaziale, che richieda titanio, col simbolo della stellina, che sono sempre costruzioni spaziali, potrete usare invece dei mega crediti, potrete usare direttamente il titanio, e ricordatevi che ogni titanio, varrà tre mega crediti. All'inizio della partita, dal mazzo che vi ho fatto vedere, che quello è per tutti i giocatori, non viene diviso, si vanno a pescare solo ragazzi, per il primo turno, si vanno a pescare 10 carte, 10 carte che poi ovviamente, il giocatore andrà a girare, e andrà a controllare, ora vi ce ne metto 4, perché in tutti i turni successivi, invece non saranno più 10, ma 4, solo nel primo turno, ne pescherete 10, ciascun giocatore, in tutte le fasi del gioco, pesca primo turno 10, e tutte le altre 4, facciamo già conto di essere al secondo turno, 4 carte, e a quel punto lì cosa fa? Controlla le carte, e le guarda, magari ci potrebbe essere un effetto, che ne so, questa qui gli dà tot risorse, quest'altra qui uguale, oppure ci potrebbe essere una carta azione, che le consente di fare un'azione particolare, o ci sono anche carte evento, tipo i meteoriti, che le consentono di distruggere, o rubare risorse ad un altro giocatore, perché come vi ho detto, non è un gioco cooperativo, però ricordatevi che, ogni carta che volete tenere, vi costerà 3 megacrediti, quindi, voi ne pescate 4, però dite, ma a me mi interessa, boh, questa, questa, e questa, e questa qua giù la scarto, queste 3 ve le tenete, dovrete pagare, 3, 6, 9, quindi levate, dalla vostra plancia, qua giù in fondo, leverete, 9 megacrediti, che andranno scartati, e queste 3 carte, le potrete tenere, ricordatevi sempre, che, l'avete pagato, per tenerle, l'ultima, ovviamente si scarte, va nella pila degli scarti, quella non presa, le avete tenute, però non vuol dire, che le potete utilizzare, le avete soltanto tenute in mano, non c'è il limite, alle carte che potete tenere in mano, potete avere anche 50, se le avete pagate, sono vostre, ci mancherebbe altro, però, ricordatevi che, per giocare queste carte, qui c'è un esempio, che vi faccio vedere subito, per giocare queste carte, dovrete sempre, pagare il costo in megacrediti, che c'è scritto in alto, ricordatevi, con la regola che vi ho detto prima, vi faccio l'esempio, questa carta qua giù, costa 11, come vedete, costa 11, però, potete pagarla sia in megacrediti, che potete pagarla anche in risorse, perché vedete, c'è il simbolo delle costruzioni, che vi dicevo prima, quindi potete pagarla anche, con le risorse di costruzione, se avessi avuto la stella, col titanio, però più che altro, per le risorse spaziali, il simbolo grosso, che hanno in fondo, sono i punti vittoria, che vi danno a fine partita, ricordatevi che, quando giocate una carta, quando una carta è in gioco, non dovete scartarla, anche quelle che hanno un'azione, che vi dice, usatela soltanto, una volta nella generazione, turno, non dovete mai scartarle, se avete 30 carte davanti, dovete trovare posto per tutte, di impilarle, le carte, poi cosa ci vanno a dire, ci danno una descrizione, un effetto di quello che succede, una risorsa, quindi risorse, che andranno accumulate, sulla tabella, che vi ho fatto vedere prima, e ricordatevi bene, a volte hanno anche un requisito, come questa, infatti vedete, qua giù, accanto al costo, c'è un requisito, dice che la temperatura, totale, di Marte, del pianeta rosso, deve essere, uguale o inferiore, ai 6 gradi centigradi, quindi questa carta, la potete giocare, solo se la temperatura, è 6 gradi o sotto, se la temperatura, sarà 7, 8 gradi o comunque di più, non la potrete giocare, quindi non vi conviene, nemmeno comprarla, a quel punto lì, perché tanto, non la potreste utilizzare, se vedete, una di queste icone, qua giù in fondo, bordata di rosso, ad esempio, questa non lo è, però se fosse stata, bordata di rosso, vorrebbe dire, che potete, o prendere, e rubare, o distruggere, totte risorse, che ci sono segnate, dalla mano, di un altro giocatore, come repilogativo, come vi dicevo, avete, ci mettete un cubettino, del vostro colore, no? Un valore di 3, sui mega crediti, a inizio della nuova generazione, quando si dovrà vedere, quanti crediti avete accumulato, prendete 3 cubettini, di quelli che valgono uno, e li mettete qua su in cima, no? Per ricordarvi, insomma, quello che valgono, e quello che avete da spendere, ricordatevi che se dovesse salire, ovviamente potrebbe anche calare, ne avreste di meno, guardate sempre il valore, che c'è in fondo, vedete, può essere anche negativo, il valore dei crediti, dei mega crediti che riceverete, sarà sempre dato da, il valore attuale che avete sulla plancia, più la terraformazione che avete in gioco, se voi avete 3 sulla plancia, della corporazione, e 10 sul valore di terraformazione, che vi faccio vedere sulla mappa, dovrete sommare, quindi 10 più 3, farà 13, ne avrete 13 disponibili, quindi date sempre un occhio, risorse per la costruzione, uguale a qui, risorse di titanio, piantine, che tra l'altro, ogni, come vedete qui, ogni 8 piante, potete convertirle, con una tessera, di queste qua giù, con una tessera, di queste qua giù verdi, per costruire un bosco, e alzare la temperatura su Marte, quindi ogni 8 risorse, che avrete qui, si fa l'esempio, anche qui ci avete buttato, un bel pochino di cubetti, potrete spostarle tutte quante, e convertirle, in una zona di terra, per terraformare Marte, poi c'è l'energia, che qua giù in fondo, che potrebbe servirvi come requisito, per giocare delle carte, altre cose, che a fine di ogni turno, di generazione, diventerà automaticamente, vedete, verrà spostata, in calore, in temperatura, potete usare, anche qui, 8 cubettini, temperatura, calore, per alzare la temperatura globale, di Marte, i turni, si svolgono, che ogni giocatore, ogni corporazione, ha due azioni, per il proprio turno, però virtualmente, si può giocare all'infinito, fino a che tutti, non passeranno, esempio, faccio un'azione, la seconda, non la faccio, aspetto che muova, l'altro giocatore, l'altro giocatore, ne fa una, e passa al terzo giocatore, il terzo giocatore, ne fa due, e ripassa al primo, il primo, ne può, a sua volta, rifare una o due, la generazione, finisce, quando tutti, i giocatori, passano, senza aver compiuto, nemmeno un'azione, sulla mappa, le cose importanti, da fare, a inizio partita, sono mettere, le nove tessere oceano, qua su in cima, vedete, c'è il loro spazio, qua su, poi, dovete mettere, un cubettino, bianco, che sono tre in tutto, sulla prima generazione, vedete qua giù, sul livello 1, praticamente del tracciato, che fa il giro mappa, lo mettete qui, e al passare di ogni turno, che in questo gioco, si chiamano generazioni, dovete spostarlo, su di uno, poi, un altro cubetto, lo dovete mettere, qua su, sullo 0%, che è il valore dell'ossigeno, ci mettete un cubetto, e un altro, sui meno 30 gradi, che è la temperatura, di partenza, tutto quello, che farete in gioco, servirà per terraformare Marte, e la cosa più importante, da fare, per finire la partita, per finire la partita, quindi per vedere, fare il conteggio dei punti e tutto, la temperatura, dovrà essere, a più 8, quindi qua su in cima, i gradi, la generazione non conta, dove arrivate, arrivate, quello è il conteggio dei turni, l'ossigeno, dovrà essere arrivata, al 14%, e tutte 9, le tessere oceano, dovranno essere piazzate, quindi Marte, dovrà avere, tutte le 9, le tessere oceano, posizionate sulla mappa, nei riquadri blu, come vedete, si possono mettere soltanto, dove ci sono i riquadrini blu, non le potete mettere, ovviamente, dove vi pare, ovunque, per farvi un esempio così, quindi tutte 9, le tessere oceano, piazzate, temperatura, più 8 gradi, e ossigeno, del 14%, a quel punto, la partita sarà finita, e si farà alla conta, le regole del gioco, dicono che, come vi ho detto, le tessere oceano, devono essere posizionate, soltanto, dove c'è, l'esagono blu, e devono essere sempre, posizionate, accanto, una all'altra, come vedete, comunque, devono seguire un corso, a parte quelle separate, come ad esempio, questa, che è qui da sola, nel caso, non la volesse mettere qui, o questa qua, sono insomma, laghi, oceani, i mari, e cose del genere, poi, le tessere vegetazione, possono essere piazzate, ovunque, ovunque vogliate, non hanno un limite, quindi la posso mettere qui, oppure la posso mettere qui, però ricordatevi che se la mettete su un esagono con un simbolino, prendete anche le risorse di quel simbolo, quindi se io prendo una tessera vegetazione, e la piazzo su un esagono con il simbolo di una fogliolina, automaticamente prenderò una risorsa da mettere sulla plancia, come vi ho fatto vedere all'inizio, quindi prenderò una risorsa di alberi, una risorsa di alberi foresta, la metterò sulla mia plancia, la potrò utilizzare magari 8 per convertirle, e prendere un altro esagono da piazzare, ricordatevi sempre che, nei limiti del possibile, dovete piazzare le vostre tessere, serine di terraformazioni, nelle vicinanze di qualcosa di vostro, quindi nel caso un giocatore abbia costruito una città, anche le città ragazzi le potete costruire ovunque, però ci sono delle regole, non le potete costruire sul mare, ovviamente sulle tessere oceano, non le potete costruire sulla città di Noctis, che è una zona speciale, come vedete questa qui, e tra l'altro non le potete mettere attaccate, quindi nel caso qui un giocatore abbia già costruito una città, voi non gliela potrete costruire accanto, costruire tutto quanto città da risorse, vegetazione a risorse, mari, oceani e laghi danno risorse, la cosa importante è che nei limiti del possibile dovete, se potete, sempre costruire vicino alle vostre risorse, quindi se questa è la mia città, io dovrei andare a metterci una vegetazione qui accanto, ciò non toglie che se non ho niente nelle vicinanze, la posso costruire dove mi pare, però ricordatevi che costruire vicino a fonti di acqua o alle città, quindi se io magari la città la metto vicino a una fonte di acqua, e successivamente ci metto anche dell'erba vicino a una fonte di acqua, che è libera per tutti, non è bloccata una corporazione, perché l'acqua è un bene di tutti, chiunque la terraformi, guadagnerò dei punti, guadagnerò dei megacrediti e dei punti vittoria, perché ricordatevi che prendendo il cursore di un giocatore, il cubettino giallo, tutti i giocatori partono da un livello di terraformazione iniziale di 20, quindi fate conto di avere tanti cubetti qui, io ci ho messo quello giallo del giocatore che stiamo andando a rappresentare, e ogni volta che si guadagneranno punti terraformazione, questo dovrà essere alzato a seconda dei punti terraformazione che prenderemo, la terraformazione si guadagna mettendo erba, piante, foreste, boschi, quindi mettere una tessera verde un punto terraformazione, mettere un oceano un punto terraformazione, mettere una città un punto terraformazione, tutto quello che fate da terraformazione, e ricordatevi anche che ovviamente in più alla terraformazione ci sono anche le risorse tipo la temperatura e l'ossigeno, perché laddove ad esempio mettere una risorsa come un bosco alzerà l'ossigeno di uno, perché mettendone una alzerete anche l'ossigeno di uno avendo messo piante sul pianeta, ricordatevi che mettendo invece oceani e terreno e altre risorse del genere andrete anche a alzare di conseguenza la temperatura globale, temperatura che è arrivata a più 8 e ossigeno che è arrivata al 14%, la partita sarà finita e si farà il conteggio, conteggio dei punti che sono i punti che avete visto che vi danno le carte, punti per aver posizionato le tessere, non solo averle posizionate ma anche in una certa maniera, e in più punti di terraformazione, quindi un giocatore che magari ha 40 punti terraformazione e quell'altro ne ha 20, ovviamente quello che ne ha 40 ha terraformato di più e c'ha più possibilità di vittoria. Più delle azioni che potete fare giocando le carte ci sono anche qua giù azioni generali che potete spendere tot, vedete, mega crediti per fare l'azione che c'è scritta, quindi queste sono libere a tutti, non serve manco avere la carta in mano, guardate qui, ci avete soldi, spendete 25 e mettete una città, senza avere carta né niente. In più ci sono le milestone, che vengono prese, sono punteggi finali, ovviamente ogni milestone dà un punteggio di 5 e costano la prima 8, la seconda 8 e la terza 8. Ad esempio, il primo giocatore che costruisce 3 città metterà il suo cursore su questa milestone per ricordarsi di averlo preso e prenderà, pagando 8, prenderà 5 punti vittoria. Mentre invece i riconoscimenti sono per il primo giocatore che va lì e se le prende, quindi il primo che va qui e ci spende 8, si prende questo riconoscimento e si prende punti qua su in cima. Ultima cosa per concludere, ricordatevi sempre, gli oceani, ragazzi, l'acqua è un bene di tutti, quindi gli oceani sono di tutti i giocatori, ma sulle altre tessere, quindi città speciale, città e boschi, foreste, quando le costruite metteteci sempre sopra un cursorino, un cubettino del vostro colore, del colore della vostra corporazione che avete scelto in fase di setup, perché questo vi servirà a ricordarvi quale sono le tessere vostre che avete posizionato. Tutti si gioca per terraformare Marte, quindi tutti contribuiscano a temperatura, ossigeno e mari, però ricordatevi che qui ognuno gioca per sé, quindi vince chi ha fatto più punti, c'è un solo vincitore. Sembra, ragazzi, alla fine è difficile da spiegare, ma perché so io che per di una cosa se ci vuole due secondi ce ne metto 15, purtroppo sono fatto sì, lo ammetto, è una mia limitazione, infatti è per questo che mi ci trovo anche a volte un po' in difficoltà a spiegarle regole di un gioco, comunque terraforming Marte è veramente un gioco molto veloce ed è un gioco che è facile da imparare come regole, però è bellino perché uno potrebbe dire ma risiocabilità ce n'ha poca fondamentalmente perché c'è sempre quello, non è che c'è tanti imprevisti, invece no, è qui il bello perché ci sono talmente tante carte da giocare anche contro gli altri giocatori che in un momento che uno si fa sembra un po' hotel, io lo chiamo hotel nello spazio, su Marte, perché c'è quel momento che da essere ricco ti ritrovi povero perché quello magari ti ha giocato delle carte contro o anche perché magari ha fatto una buona mossa e ti stai lì a pensare metto la città, terraformo, metto il terreno, metto le foreste, i boschi, metto un oceano, mi sono fatto uno sbotto di punti e quello poi magari furbescamente si mette da parte i punti, si prende tre milestone e si va a prendere tutti i riconoscimenti e fa più punti di te. Cioè, ti ti sei messo lì a farti un bucio così, a terraformare un pianeta e poi quello soltanto con i riconoscimenti vince perché purtroppo è che così come nella vita di tutti i giorni c'è chi si impegna a fare qualcosa e nessuno insomma gli dà il giusto riconoscimento alla paternità di quello che ha fatto mentre invece arriva quello che ha preso riconoscimento non si sa come perché gliel'hanno tirato da qualche parte e che diventa più famoso va sui giornali e insomma sbanca rispetto a quell'altro che invece effettivamente ha lavorato ed è una cosa bella perché secondo me va a creare uno spessore disumano in un gioco che già di suo è molto 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 tattico quindi secondo me ne vale veramente la pena ed è un bellissimo gioco che dire ragazzi io se le devo dare un voto a un gioco del genere le do un 8 su 10 perché mi piace veramente da morire è un gioco veloce token non ce n'è Deo Grazi esce ancora qualcuno che fa board game senza 300.000 token e è veloce è veloce e non si rischia di dimenticarsi le regole però è un gioco veramente divertente e carino perché è duplice questo gioco tutti si collabora per terraformare Marte ma uno solo vince cioè alla fin fine tutti tutte le corporazioni sono lì per fare del bene per creare un nuovo pianeta per la razza umana ma quello che conta non lo fanno per il popolo per la gente per dare una nuova terra una nuova casa alla razza umana ma sono questi e quindi è quella la cosa bella come nella serie di Marte se l'avete visto che era quello fondamentalmente il tema che faceva girare il tutto quindi assolutamente un 8 su 10 meritatissimo ringrazio la Genos Games per averci fornito una copia per la recensione ragazzi davvero è un onore grazie di cuore per avermi dato questa possibilità e niente ragazzi compratelo acquistatelo in descrizione trovate tutti i link dove acquistarlo il nostro Instagram e tutto quanto guardate in descrizione perché questo io lo ammetto onesto mi è sempre tanti altri giochi sono più per fan Nemesis non è un gioco che puoi presentare una famiglia capito quello è più per un fanatico di Alien o giochi del genere come un Deep Madness o altre cose questo è il classico gioco che dove lo butti lo butti lo butti e come un Nutella al tempo farai divertire anche famiglie anche magari gente che non gliene frega prettamente niente di questo tema qui farai divertire chiunque perché è un gioco semplice che ti rimane in testa facilmente quindi consigliatissimo e fatemi sapere insomma al solito cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima